Direttore, questo 5-2 contro lo Sporting Valley, ti si aspettava questo risultato? Mi aspettavo un risultato rotondo, non come è maturato, però portiamo a casa la vittoria, era importante perché veniamo da una sconfitta. Allora Mattia, questa sconfitta per 5-2, quanto ti brucia? Sconfitta bugiarda, perché fino alla fine la partita è stata in bilico e poi c'è stata l'espulsione e alla fine niente, quei due o tre gol all'ultimo ci hanno rovinato. Però l'importante è che l'abbiamo giocata bene, alla pari e prendiamo le cose positive dell'incontro.